Lecce, bisogna poter dire la verità? Sulla vicenda della lotta all'Axilella, invece, c'è una strana gara a dire, appena appena, delle mezze verità. Il tema è complesso, ma va affrontato evitando la propaganda. Si doveva partire sin dall'inizio dal piano europeo che prevedeva l'eradicazione delle piante infette e l'istituzione a Torchiarolo del Corridoio di Salvaguardia, per impedire che il batterio si sviluppasse, anche a nord della provincia di Lecce. Così in una nota congiunta Ernesto Abaterusso, capogruppo Articolo 1, MDP, Regione Puglia, e Massimo Paolucci, eurodeputato. Diciamoci le cose come stanno, continuano, nemmeno il governo ha fatto fino in fondo la sua parte. E tutti, ma proprio tutti. Qui da noi hanno operato, due anni fa ed in seguito, nella sostanza, perché nessuna pianta fosse abbattuta. Cedendo, la nostra comunità, a una posizione romantica che ha danneggiato economia e paesaggio più di quanto non l'avrebbe fatto l'abbattimento immediato di tutte le piante infette. Questo va riconosciuto? Come va riconosciuto che il Presidente della Regione, ha ceduto anche egli ad una logica di mera contrapposizione al governo, tirando la volata a certo fondamentalismo ambientalista e a posizioni antiscientifiche? Ed anche una parte della magistratura, ha le sue responsabilità, nel momento in cui, sorprendentemente, ha cominciato ad indagare, sul caso, scienziati e tecnici della materia. Ma, pur riconoscendo tutto ciò, non ci sfugge, che il governo non ha mai fatto la sua parte sino in fondo. Il Commissario, continuano, poteva agire, perché ne aveva i poteri. La sua inefficienza e l'inefficacia della sua azione hanno pesato non poco nella direzione di dare fiato allo stallo, che si è determinato nella lotta al batterio. Diciamo questo perché siamo sorpresi dall'ultima presa di posizione della Vice Ministro Bellanova. Addossare ogni responsabilità alla regione, può essere comodo ed autoconsolatorio. Può essere un pezzo di propaganda per le prossime elezioni politiche, virgola ma non sposta di un millimetro la situazione.